Voglio far vedere, le vede le foto di Salvini davanti a lei in quello schermo di guai? Ecco, gliele hanno messe anche qua, le guardi bene. Ce le ho sulla destra. Adesso ce le ha sulla destra, non casualmente. Le chiederei, no? Si è accorto che Salvini prende spunto da lei? Cioè per la campagna elettorale in Emilia Romagna si veste da Bertimotti, Salvini. È evidente, non è che ce la stiamo inventando noi. Prima ho introdotto la differenza tra la tesi politica e la persona. Adesso tra la persona e l'abito. Diciamo che se si veste così l'abito non fa il monaco. Grazie a Bertimotti.